Guansuraco, prima partita con la maglia della Feralpi Salò e subito in gol nel derby, una partita, una prestazione da ricordare per te questo esordio con la maglia verde e blu? Sì, non potevo chiedere di meglio di esordire magari facendo gol con i tre punti nel derby, quindi tutto perfetto. Importante questa vittoria per la squadra, è la seconda vittoria nel 2017, però anche per te la squadra ti ha trovato subito molto partecipe, ti ha coinvolto nel gioco e ha avuto anche la possibilità di sfruttare non soltanto l'azione del gol ma anche diverse altre occasioni per o andare in rete o per assistere i compagni. Sì, è normale che tutto questo grazie anche ai miei compagni che sono stati bravissimi con me, sia dentro il campo che me l'ha fatto subito sentire come se fosse già da un po' di tempo e anche fuori dal campo, quindi mi trovo benissimo. Mancava questo gol? Sì, da un po' che non facevo un gol, quindi sono contento.